Rischia di infettare altre coltivazioni il batterio della quarantena xylella che ha colpito gli ulivi pugliesi. E quanto emerge dalla relazione conclusiva del professor Rodrigo Almeida, il cattedratico americano ha esaminato insalento il fenomeno del dissecamento precoce degli ulivi colpiti dalla malattia. Del caso se ne occuperà martedì prossimo anche la Commissione Agricoltura a Bruxelles. Ma è chiaro sin d'ora, in base alle risultanze scientifiche, che ci vorrà del tempo prima che sia individuata una difesa adeguata per gli ulivi. Casi di infezioni epidemiche di xylella sono moltissimi, molti sono stati affrontati e in alcuni casi sono state trovate delle soluzioni. È difficile poter rispondere esattamente a questa domanda. Se posso peraltro aggiungere io una cosa, per quanto riguarda l'olio, le piante che sono colpite sono piante condannate. Quest'anno alcune hanno ancora prodotto, l'anno prossimo sicuramente non produrranno. I risultati di Almeida sono stati esaminati dagli esperti del servizio fitosanitario della Regione Puglia, dal Dipartimento di Scienze del Suolo della Pianta e degli Alimenti dell'Università di Bari, oltre all'Istituto di Virologia Vegetale delle CNR di Bari, il tutto per verificare i rischi del batterio su altre coltivazioni. Significa poterlo rilevare anche su specie che potrebbero anche non manifestare alcun sintomo ed è quello il lavoro che stiamo facendo noi.